Arriva una chiamata alla caserma dei pompieri. Subito esce il camion e corre all'indirizzo dell'incendio. Trovano un palazzo con un incendio che sta divampando all'interno. I pompieri aprono il camion, tirano fuori le manichette antincendio, le scale ed iniziano a sparare acqua per provare a spegnere l'incendio, ma è troppo forte e non si riescono ad avvicinare più di tanto. Mentre sono lì fuori con gli edranti, vedono un signore che esce di corsa dalle scale, prende fiato e rientra, tutto avvolto fra asciugamani e coperte. Ed ancora una volta esce, prende fiato e rientra. Alla terza volta lo fermano. Ehi lei, ma cosa fa? Non rientri, è pericolosissimo. Lo so, ma c'è una persona. C'è una persona. Chi è? Mia suocera. Ma lei è un eroe. Sta sacrificando la sua vita per salvarla. Sì, devo rientrare, lasciatemi andare. Ma com'è la situazione? È incastrata? Non ce la fa a portarla fuori? Aspetti, entriamo noi. Non sto rientrando per portarla fuori. Allora per cosa? Per girarla, così si cuoce bene.